ciao a tutti ragazzi bentornati qui sulla mars continuiamo ancora con le balle però in questa puntata voglio fare anche qualcos'altro perché voglio andare o vorrei iniziare a fertilizzare i miei campi con l'erba così fatto l'erba fatto la fertilizzazione possiamo andare ad arare dopo sassi e poi semina prima che finisca l'inverno cioè prima che finisca l'estate più che altro perché siamo a giugno ma prima mi vorrei finire almeno le balle che ho su questo campo ma tanto non ce ne sono tantissimi sono quasi finiti facciamo questi e dopo andiamo a fare quello dovremmo anche prenderci i soldi perché abbiamo bisogno di soldi senza soldi non si va avanti ragazzi e questo sarà un piccolo investimento allora o noleggio tutto o compro tutto se compro tutto ci vogliono 200 mila se noleggio tutto ci vuoi un po meno però non lo so vediamo vediamo andiamo a vedere se ho qualcosa da vendere se qualcosa da vendere che me lo pagano bene magari magari lo famo strano compriamo allora su questo campo non ce ne dovrebbe essere più almeno da quello che vedo qui abbiamo fatto una prova con autodraft che mi scarica le balle non è male non è male però vediamo allora tu scarico lui scaricarla dietro di scaricare a fianco vabbè allora questi li portiamo dove li porto dagli maiali ci sono andati dagli animali sono andato dappertutto direi che faccio un altro giro dal composter balla volant ragazzi balla volant il mistero della balla volante signori la balla volante alieni alien stick ok pieno perfetto allora andiamo a scaricare vediamo un po aspetta che adesso ho un allora totale razioni mista qua un po di cosa glielo posso portare ma quello alla fine qua c'è per adesso il composter stro come messo altri 200 li prenderebbe solo che io ne ho caricati 400 poi fettrizzante no la nostra produzione di latte prende adesso anche il latte di pecora con l'ultimo aggiornamento di questa mappa qua è venuto fuori mannaggia l'ha cambiato di nuovo e ogni volta aggiorno questo mi sono un po rotto di fare la traduzione della mappa ora me la lascio per come in tedesco e me ne frego tra l'inglese il tedesco me ne frego basta ogni volta che viene fuori un aggiornamento il perdo dei giorni non vale la pena allora qui la paia non la vuole ma questo me lo immaginavo dove 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 qua pellet factory come siamo messi a paglia qua siamo a pieno perfetto silage factory in c'entra niente silage no non lo fa la paglia non me la trasforma zucchero acqua altra roba le carpenterie bottiglie no allora facciamo una cosa che vado a riempirmi il coso che produce il compost e poi ne butto un po dentro al al coso che fa la razione mista tutto il resto va in magazzino siamo tutto in magazine e poi iniziamo con la coltivazione no coltivazione quel chiama perterizzazione o o o o stavo guardando un'altra parte completamente un'altra parte momento a proposito devo cacchio mi dimentico sempre di attivare quella cacchio di mod per togliere gli oggetti perché voglio allargare questo campo qui a volte ci vado a piantare di nuovo degli alberi vediamo non lo so probabilmente lo allargo allora noi dovremmo posso svoltare anche la prossima sì andiamo dritti qua c'è un altro campo allora voglio comprare non so se avete visto la puntata precedente voglio comprare uno span di concimi abbiamo tantissimo concime e poi andiamo a concimare i miei campi vero che col concime potrei fare anche tanta altra roba ma voglio utilizzarlo per quello non lo faccio quasi mai allora qui è sempre un casino voglio provare a scaricare in modo diverso l'ultima volta ho provato a scaricare da dietro adesso voglio provare a scaricare da davanti vediamo allora attraverso il mio campo è mio non ne faccio quello che voglio io occhi d'occhi allora no non questa alla prossima ma devo iniziare a valutare posso vendere quei quei rimorchi che avevo io tutti i rimorchi autolo adesso li vendiamo non mi servono più non li utilizzo preferisco quello quello lì per le balle compagno varie molto più comodo quando non è che deve fare della gran strada allora stacchiamo questo vediamo se così funziona meglio il problema è che non funziona cacchio attacca ci proviamo di nuovo da dietro va allora gliela mettiamo da dietro non pensate male gliela buttiamo dentro da dietro detta come la dico come la dico dico sembra brutta sta cosa però gliela giriamo da qui ok e voi e questo qua ci vorrebbe l'altro rimorchio quello che puoi alzare anche la la cosa no allora vediamo un po tanto tutto non ci va di sicuro però ci abbiamo abbiamo fatto il pieno adesso tutto il resto ce lo carichiamo ok e qui abbiamo il pieno vediamo questo può lavorare la grande allora straw paglia 600.000 perfetto diesel 11.000 questo per un po non ci romperò più le balle qui di 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 cosa me ne vieni fuori a ton ton a ton tonnellate no ti vado quella cacchio di cosa due maroni super forza via mannaggia allora io quella mod mi piace ma la odio non mi fa salire più questo si è stato parcheggiato si è sì ok allora andiamo a prenderci di nuovo quello ecco siamo a buon punto allora tu hai bisogno di quanti 30.000 circa 20.000 circa aspetta qui che adesso tuo carico io fermati fammi andare a vedere quello ecco qua allora dove andiamo cosa mi è rimasto abbiamo detto che questo va dentro la produzione della ferte del della produzione qua cacchio si chiama ferte non mi viene razione vista di buona testa mettiamola dentro e poi andiamo vendere 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 qualcosa vediamo cosa possiamo allora se abbiamo qualcosa da vendere che ci porta un bel guadagno e allora lo famo altrimenti prenda il noleggio perché non voglio perdere dei gran soldi ci sono ancora quei cacchio di tre pallet lì che mi dimentico sempre di caricarli allora peccato che il le nostre mucche non prendono avevo pensato anche di fare un'altra cosa di cambiare la stalla perché ci sono le stalle nuove di fedaction let's play e quasi quasi andrei a cambiare le due stalle qua con una non sarebbe manco male sta cosa però non abbiamo i soldi oh ma dai mi sono incrastonato incrastonato mi sono ma dai io po' che professionista scadente dicolo qua mello questo scarica così? si non scarica allora famolo famolo cos'è famolo cos'è famolo cos'è famolo cos'è famolo cos'è famolo cos'è famolo strano basta che lo fomo per fortuna che il trigger è grande non mi dico che si è riempito anche questo paglia è pieno anche questo ok tutto il resto silos aspetta cane spostati io buon bobo caro mio tu guardate qui si è buttata sotto le ruote vive pericoloso allora tu ti vai a parcheggiare che il parcheggio ce l'hai poi dopo adesso vedo cosa devi fare anche tu probabilmente userò il camion per la nostra per il nostro concime vediamo eh riusciamo a scaricare così? no dai non mi dire oh per fortuna che l'ha presi tutto bene allora tu torni sul campo 16 che noi noio cosa vuol fare? stazione riparazione vabbè ok vanno un po' dove vuoi noi vogliamo fare un'altra cosa non ho capito questa cosa pieno? allora vai fatta un altro giro allora dobbiamo vedere se c'è qualcosa in vendita qualcosa che possiamo vendere quasi quasi mi sono pure eh sì ok allora guardiamo qua sotto abbiamo bisogno di 230 240.000 oh non c'è niente di utile ragazzi non c'è niente l'unica cosa è il multistrato che ci porta 320.000 oh la ghiaia però la ghiaia mi serve anche a me cibo per i sulini fertilizzante liquido 520 cosa è? farina oh buona la farina vendiamo la farina 520.000 non fa mica schifo allora dov'è il mio c'è un camion che è partito da dove? non mi ricordo da dove ehm questo si sta parcheggiando qui ci dov'è essere un camion vediamo è lì fermati ce la faccio ce la faccio ce la faccio ce la faccio ce l'ho fatta oh oh sono stanco oh oh ok allora andiamo a caricare la farina andiamo a vendere farina ma io quasi quasi comunque la roba la noleggio non è che tutti i giorni io butto via del però posso utilizzarlo anche per il calcare e questa è una cosa che mi piace ehm boh allora farina qui ce n'è uno di rimorchi che devo vendere là ce n'è un altro secondo me due rimorchi di questi auto ce li ho da vendere tutti e due secondo me un 10 10 10 15 mila dovrei prenderlo da tutti e due allora carichiamo la farina qua la voleva al Lidl se non sbaglio allora andiamo a cambiare qua ehm europallet pellet 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 europallet aspetta allora voleva fammi prima che carichiamo delle cavolate farina farina di frumento ok crusca farina di farro di segale farina ok non so se mh quanta ne avevo quanto me ne diceva qua farina 200 3000 non ne ho mica caricati 200 3000 io ne ho caricati 9000 che significa probabilmente ne ho ancora dentro al mio magazzino 203 doppio più del doppio o un palo c'era l'ho presi in pieno un palo su Allora farina Dov'è? Farina, farina Non è qua Farina, eccola lì Farina Farina Okidoki Comunque sono le sette Quasi Ho caricato un pallet vuoto Vabbè Ah, era un pallet vuoto Di latte? Di panna Eh, mi interessa Allora è venuto fuori Un altro aggiornamento Devo andare a scaricare anche quello Qua gli aggiornamenti arrivano a tonnellate E c'è anche qualche produzione nuova Se non sbaglio c'è anche quella del carbone Ok, il Lidl è qui Ci sta? Ci sta la grande Ok Allora, fai una cosa Tu vai lì Campo 15-16 che andiamo a raccogliere le balle E io vado in negozio Allora, per prima cosa abbiamo detto Spandi concime Voglio prendere quello Di FedExon Let's Play Che questo lo trovate comunque nel momento in cui andate a scaricare le mod Di questa mappa qui Larghezza di lavoro 24 metri E questo? 24 metri No, non cambia niente Tranne che Oh, anche quello originale Fa la calce Non sapevo questa cosa Allora, quello non modificato Fa la calce Non sapevo questa cosa Non è calce questa Ma questa non la sapevo Allora, cosa cambia tra questo? 38.013 24.016 Allora Eh, un po' più grande E un pelo più grande Allora, 38 24 16 Non cambia niente Non cambia nada Non cambia niente Allora, abbiamo detto No, Trellaborg No Ma intanto se io Boh Non lo so come mai Ehm Michelin Mi piacciono di più questi Friede Stein No Mi piacciono più Michelin Lasciamo Michelin Ok Ok Ehm Compra Visto che Lo fanno anche Quelle di serie E allora Allora Lo utilizziamo anche Per la calce Poi 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 mi serve Mi serve Mi serve Mi serve Mi serve Questo Dove sei? Qui 88.000 Allora Quello abbiamo detto Che è 38 Questo è 43 Rimorchio Vasso Rimorchio Semi Rimorchio 60.000 Per la modica Cifra di 99 Marca Gomme Michelin BKT No Secondo me Faccio Michelin 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 Fuori strada No No Non mi piacciono Questi Mi piacciono Questi Luce Livello Riempimento Non lo so Colore principale Mi fa cagare Sto blu Vediamo se c'è un bel bianco Mi piace di più Però il bianco Con gli etame Diventa subito nero Marroncino Mamma che brutto Questo marrone Ah Vediamo questo Che colore facciamo Facciamo un Mamma mia Che brutto Un grigio Fumo Un grigio chiaro Molto più bello Colore design Fa cagare Lasciamo quello di prima Va bene così Colore cerchioni Sto blu Fa schifo Il pantano Con quella sopra O bianchi No Facciamo Il colore Dei c'è No Dov'era Grigio sotto al beige Ok Indietro Questo Facciamo come sopra Ci sta la grande Compra 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 Via 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 Allora Possiamo Possiamo Allora carichiamo queste Così le togliamo da qui E quando poi abbiamo di nuovo il pieno si parte Adesso questo devo tornare a metterlo Dove sono le bolts Rotoballe Rotoballa Balle Balle quadrate 2 220 Più grande c'è Balla quadrata Ah c'è Ok Perfetto Abbiamo di nuovo la balla volant Ragazzi Adesso non ho più il coso Che non posso toccare Balle Ok Lo disattivo Perché non voglio che si creano dei problemi Perché se arriva magari troppo vicino Poi saltano per aria L'ultima volta non mi trovavo più Nel camion Nelle balle Allora Io ho camion Siete d'accordo voi? Sì Vanno abbastanza d'accordo Allora Qui Io ho Averes Allora Aspetta che una cosa non l'ho mica guardata Quanto Quanto cavallos ha bisogno Quello spandiletame Spandis concimes Vacca 300 cavalli Quasi Quasi comprirei quel trattore in offerta qua Mannaggia 313 Io ho Trattori grandi Questo ne ha 320 Sì Io ho visto qua Quanti ore di lavoro ha 73 mesi Ore di lavoro 137 Allora lo vendo Per 50 60.000 Circa E prenderei quello Dov'è? Per 126 Ma mi conviene Non lo so Non lo so 313 Ne ha questo Questo Ehm Ehm E326 Ne ha questo Però questo è vecchiotto Ragazzi Eh ci metto circa 50 70.000 Sopra Non è male No Lasciamo perdere Questo sta lavorando Prendiamoci questo Mi serve Questo è il camion Ehm Ma questo sta lavorando Poi si fa per dire Perché questo è finito Ok No Tira via tutte le balle Ok Allora tu vai al lavaggio E gli diamo una lavata Perché fa schifo Base Lavaggio Vai Ehm Dove cacchio sei? Qua Oh vedo che l'ho trovato Allora vediamo Benzina c'è Riparato tutto al 100% Va bene Andiamo a fare i lavori Va Vediamo quanto me lo pagano Se Se Lo vengo Se mi viene la cosa di venderlo Allora 45 Se lo vendevo a distanza Aspetta che io qualcosa da vendere ce l'ho Che ho qua un rimorchio Che non utilizzo E vuoi o non vuoi 10.000 Secondo me me li dovrebbe dare Così recupero anche posto Per i parcheggi Eccolo lì Allora Con il camion andiamo a recuperare tutto il concime che c'è in giro E questo lo lasciamo al lavoro Dovremmo solo impostare bene i nostri percorsi Autodrive Vediamo Lo facciamo noi Vediamo un po' come si è messi con i tempi Direi che intanto vendiamo sti due rimorchi Che ce li ho morti qui Che non li utilizzo quasi mai Devo anche cambiare la disposizione dei mezzi qui Perché ho fatto quella nuova Perché ho fatto quella nuova con tutti i mezzi antichi Vecchi Solo che Devo Devo lavorare su questa Allora Vediamo quanto mi dai per questo No Dov'è la cosa per sellare Sella Quando mi dai 5.000 Bastardio Vendi Sì Alla fine voglio vendere il trattore Quanto mi danno per il tractor Beh mi dà 5.000 euro in più di quello che mi dava Se lo vendiva a distanza Mi dava 45 Oh Ridipingi 27 È perfetto Mi piace l'old style Non è che per forza dobbiamo avere tutto luccicante Allora Vediamo anche questo E poi Io non so di quale trattore è quel peso lì Può essere di questo Può essere anche di questo Ma questo il peso ce l'ha più o meno incorporato Dove sei? Dove sei? Dove sei? Qua 11.000 Beh Fa mica schifo Sì Allora andiamo a collegare il nostro nuovo rimorchio Ma vediamo Ma non è brutto dai Non è affatto brutto Da quale campo iniziamo? Direi che iniziamo dal Iniziamo dal 33 Così iniziamo anche dopo Cioè iniziamo Nel momento in cui abbiamo finito Andiamo subito di aratro Lavoriamo sul Sul nostro concime Allora tu parti E noi Noi o Noi o Ci rivediamo nella prossima puntata Dove a quanto pare dobbiamo andare a spegnere la nostra Caverna Stavo dicendo La nostra cava E andiamo finalmente a spargere un po' di letame per i nostri campi Vabbè ragazzi Appuntamento al prossimo video Sempre qui con la Marsh Salutone Ciao 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 Ciao